Siamo con il vice sindaco di La Mesa Terme, l'avvocato Antonello Bevilacqua, alla presentazione di questa nuova stagione dell'ASC Calcio Amatorio. Abbiamo visto tanta allegria, tanta competizione, tanto sano gioco ci sarà? Assolutamente sì, ho avuto anche la fortuna di partecipare per moltissimi anni a questo campionato con gli amatori Pianopoli, lo abbiamo anche vinto, abbiamo vinto le fasi regionali, ho avuto modo di apprezzare sia la competenza tecnica dell'ASC, sia la serietà degli arbitri che poi fanno anche spesso la differenza e sia il sano agonismo di tutti i partecipanti. A loro faccio i complimenti perché ogni anno si ripresentano ai nastri di partenza con nuovi associati, con nuovi affiliati e con nuove squadre che partecipano. Oggi ho visto che hanno dovuto anche fare due gironi differenti per l'aumento delle squadre, quindi insomma assolutamente bene a loro, grazie a loro per quello che fanno. A noi rimane l'obbligo di essere a loro disposizione, al loro fianco per organizzare al meglio le stagioni sportive. Noi stiamo mettendo a disposizione tutta una serie di impianti sportivi, stiamo costruendo, stiamo ricostruendo, stiamo ristrutturando, stiamo completando e adeguando campi sportivi di calcio e non di calcio per metterli a disposizione della cittadinanza. A noi spetta questo, a loro spetta organizzare al meglio lo sport in maniera sì competitiva ma anche molto eticamente commentabile e superabile. Quindi loro fanno sicuramente un lavoro straordinario, lo fanno e devo dire che tutte le volte che ho partecipato con loro, ho partecipato a campionati in cui al primo punto ci sono correttezza, impegno, ma sicuramente valori etici molto importanti. Grazie per la visione!